Percy. Percy salì sul ponte e trattenne a stento un'esclamazione di sorpresa. Erano atterrati vicino alla sommità di una collina boscosa. Alla loro sinistra, un complesso di edifici bianchi, forse un museo o un'università, era annidato in mezzo a una pineta. Ai loro piedi, invece, si stendeva la città di Atlanta, un grappolo di grattacieli bruni e argenti a poco più di tre chilometri di distanza, che si stagliavano sopra quella che sembrava una distesa senza fine di autostrade, binari ferroviari, case e macchie di verde. «Ah, un angolino delizioso!» Il coach inspirò l'aria del mattino. «Ottima scelta, Valdessa!» Leo si strinse nelle spalle. «Ma ho solo scelto una collina alta. Quella laggiù è una biblioteca, almeno così, dice Festus. Che se ne importa?» replicò il satiro. «Ma voi sapete, vero, cos'è successo su questa collina?» «Frank Jung, tu dovresti saperlo!» Frank trassalì. «Dovrei?» «Un figlio di Ares è stato qui!» esclamò Edge, indignato. «Io sono romano, e perciò forse dovresti parlare di Marte?» «Fa lo stesso! È un luogo famosissimo della guerra civile!» «Ehm, io sono canadese!» «È uguale!» Dalla cima di questa collina, il generale Sherman, grande leader nordista, osservò la città di Atlanta bruciare. Lasciò una scia di distruzione da qui fino al mare. Incendi, saccheggi, spogli di guerra!» «Ah, quello sì che era un semidio!» Frank si scostò un poco dal satiro. «Ok.» Persi non aveva un grande interesse per la storia, ma si chiese se atterrare proprio in quel punto non fosse di cattivo auspicio. Ormai sapeva che la maggior parte delle guerre civili erano cominciate a causa di conflitti tra semidei greci e romani, ed erano proprio su uno dei luoghi che erano stati teatro di quelle battaglie. L'intera città ai loro piedi. Era stata rasa al suolo per ordine di un figlio di Ares. «Beh, proviamo a non incendiare la città stavolta.» Persi non faticava a immaginare alcuni ragazzi del campo mezzosangue capaci di impartire un ordine del genere. Clarissa Larue, per esempio, non avrebbe esitato. Ma non riusciva a immaginarsi, Frank, altrettanto spietato. Il coach sembrò deluso. «E va bene, ma dove andiamo?» Persi indicò verso il centro. «Quando sei in dubbio, comincia dal centro.» Trovare un passaggio fu più facile di quanto pensassero. Si diressero alla biblioteca, che scoprirono essere il Carter Center, l'organizzazione in favore dei diritti umani, e chiesero al personale se fosse possibile chiamare un taxi, o almeno ricevere indicazioni per la fermata d'autobus più vicina. Persi avrebbe potuto convocare Black Jack, ma non aveva molta voglia di chiedere l'aiuto del Pegaso dopo lo scontro con Jason. Frank non voleva trasformarsi in un bel nulla. E poi, per una volta, a Persi non sarebbe dispiaciuto viaggiare come un mortale qualunque. Una delle bibliotecarie, un'anziana signora di nome Esther, insistette per accompagnarli in macchina personalmente. Fu così gentile che Persi ebbe paura che si trattasse di un mostro. Ma Edge lo prese da parte e lo rassicurò che Esther odorava di comune mortale. «Con un pizzico di putpurri», aggiunse, «chiodi di garofano e petali di rosa». «Molto appetitosa!» Si infilarono nella grande cadillac nera della donna e partirono verso il centro. Esther era così minuta da affacciarsi a malapena oltre il volante. Ma la cosa non sembrava turbarla affatto. Si faceva largo in mezzo al traffico e nel contempo li intratteneva con i racconti delle famiglie più pazze di Atlanta, i proprietari della vecchia piantagione, i fondatori della Coca-Cola, le stelle dello sport e i giornalisti della CNN. Sembrava sapere così tante cose che Persi decise di tentare la sorte. «Ester, ho una domanda difficile per lei», esordì. «Acqua salata ad Atlanta. Qual è la prima cosa che le viene in mente?» La bibliotecaria ridacchiò. «Oh, dolcezza! Ma è facile! Squalibalena!» Frank e Persi si scambiarono uno sguardo. «Squalibalena?» ripete Frank. «Qui in città?» «All'acquario, dolcezza!» chiarì Esther. «È molto famoso, proprio in centro! È lì che volevate andare?» «Un acquario!» Persi non sapeva proprio cosa potesse farci un antico dio del mare in un acquario della Georgia, ma non aveva idee migliori. «Sì», confermò. «È lì che stiamo andando». Esther li lasciò all'ingresso principale, dove si stava già formando una fila. Vole a tutti i costi dare loro il suo numero di cellulare per eventuali emergenze e un barattolo di marmellata di pesche fatta in casa. E chissà perché teneva nel bagagliaio. Frank infilò il barattolo nello zaino e ringraziò la donna, che era già passata da dolcezza figliolo. Mentre Esther si allontanava a bordo della sua Cadillac, lui chiese «Sono tutti così gentili qui ad Atlanta?» E già sbuffò. «Spero di no. Non posso battermi con loro, se sono gentili. Andiamo a dare una lezione a questi squali balena. Sembrano pericolosi!» Persi, però, non aveva pensato ai biglietti d'ingresso e nemmeno che avrebbero dovuto mettersi in fila dietro un gruppetto di famigliole e di ragazzini di un campo estivo. Guardando quei bambini degli elementari con le magliette colorate dei vari campi, provò una stretta di nostalgia. In quel momento avrebbe dovuto essere al campo mezzo sangue, a sistemarsi nella capanna per l'estate, a dare lezioni di scherma nell'arena e a scogitare scherzi alle spese degli altri capigruppo. Quei ragazzini non avevano idea di quanto ci si potesse divertire a un campo estivo. Sospirò. «Beh, vorrà dire che faremo la fila. Qualcuno di voi ha dei soldi?» Frank si frugò nelle tasche. «Ho tre denari del campo giove e cinque dollari canadesi». Edge si tastò i pantaloni della tuta e tirò fuori quello che trovò. Tre monete da venticinque centesimi, due da dieci, un elastico e… bingo! Un gambo di sedano! Si mise a sgranocchiare il sedano, addocchiando gli spiccioli e l'elastico come se fossero anch'essi ottimi spuntini. «Fantastico!» mormorò Percy, che a parte la penna spada a vortice, aveva le tasche vuote. Gli stava chiedendo se non fosse il caso di intrufolarsi dentro di nascosto, quando una donna con l'apolo blu e verde con il logo dell'acquario gli andò incontro con un sorriso smagliante. «Ah, visitatori VIP!» Era una giovane sulla ventina, ma con quelle fossette sulle guance, gli occhiali dalla montatura spessa, l'apparecchio ai denti e i capelli neri e crespi legati in due codini. Sembrava una ragazzina delle medie, un po' nerd, strana ma carina. Insieme all'apolo dell'acquario, indossava un paio di pantaloni sportivi scuri e sneaker nere. Sulla targhetta del nome c'era scritto Kate. «Vedo che avete i soldi per l'ingresso!» osservò, saltellando sul posto come se non riuscisse a contenere tutta la propria energia. «Ottimo!» «Cosa?» domandò Percy. Kate raccolse i tre denari dalla mano di Frank. «Sì, questi vanno bene. Seguitemi!» Si voltò e trotterellò via verso l'ingresso principale. Percy guardò il coach e Frank. «Una trappola?» «Probabilmente», concordò il figlio di Marte. «Non è una mortale», sentenziò Edge, fiutando l'aria. «Con ogni probabilità è un qualche genere di nemica mangia capre e distruggi semidei originaria del tartaro. Non c'è dubbio», confermò Percy. «Fantastico!» Edge sorrise. «Andiamo!» Con la guida di Kate, superarono la fila della biglietteria ed entrarono senza problemi nell'acquario. «Da questa parte!» La ragazza rivolse a Percy un sorriso radioso. «È una mostra splendida! Non vi deluderà!» «Ospiti VIP! succede così di rado!» «Ospiti semi divini, vuoi dire?» chiese Frank. Kate rispose con un occhiolino malizioso e si portò un dito alla bocca. «Allora, da questa parte c'è l'area acqua fredda, con i pinguini, i beluga e via dicendo. E laggiù? Beh, quelli sono dei pesci, naturalmente!» Per essere una che lavorava in un acquario, non sembrava importarle molto dei pesci piccoli. Superarono una grande vasca piena di specie tropicali e quando Frank indicò un pesce particolare e chiese che cosa fosse, Kate rispose «Ah, è uno di quelli gialli!» Passarono davanti a un negozio di souvenir. Frank rallentò per dare un'occhiata a un tavolo di vestiti e giocattoli. «Prendi quello che vuoi!» lo incoraggiò Kate. Frank sbatte le palpebre. «Davvero? Ma certo, sei un VIP!» Frank esitò. Poi si infilò un po' di magliette nello zaino. «Ehi, che stai facendo?» chiese Percy. «Lei ha detto che potevo!» mi svegliò Frank. «Mi servono vestiti di ricambio. Non mi ero preparato per un viaggio lungo!» Aggiunse anche una palla di cristallo con la neve, cosa che a Percy non parve affatto un articolo di abbigliamento. Poi tirò su un cilindretto intrecciato grande più o meno quanto un bastoncino di caramella. Lo guardò con gli occhi socchiusi. «Che roba è?» «Una trappola cinese», rispose Percy. Frank, che era cino-canadese, fece la faccia offesa. «Come fa a essere cinese?» «Non lo so», ammise il figlio di Poseidone. «Però lo chiamano così. È uno scherzo!» «Venite, ragazzi!» li chiamò Katie in fondo alla sala. «E poi ti faccio vedere», promise Percy. Frank infilò pure quello nello zaino e continuarono a camminare. Attraversarono una galleria in plexiglass, con i pesci che nuotavano tutto intorno a loro. Percy si accorse che una sensazione irrazionali di panico. Cominciava a salirgli in gola. «Che stupidaggine», si disse. «Sono stato sott'acqua milioni di volte. E adesso non sono nemmeno in acqua». «La vera minaccia era Kate», rammentò a se stesso. Edge aveva già captato il fatto che non era umana. Da un minuto all'altro avrebbe potuto trasformarsi in chissà quale orrenda creatura e aggredirli. Purtroppo, però, non c'era altra scelta che continuare a stare al gioco dei VIP finché non avessero trovato forco, anche se ciò significava finire mani e piedi in una trappola. I rimersero in una stanza inondata di luce azzurra. Oltre una grande parete di vetro, c'era la vasca per acquario più grande che Percy avesse mai visto. Dozzine di enormi pesci l'attraversavano disegnando cerchi nell'acqua. C'erano anche due squali maculati grandi il doppio di Percy, solo che erano grassi e lenti. e la bocca aperta mostravano che erano privi di denti. «Squali balena!» ringhiò Edge. «Ora sì che ingaggeremo un combattimento mortale!» «Ciocco satiro!» Kate ridacchiò. «Gli squali balena sono creature pacifiche. Mangiano solo plankton!» Percy aggrottò la fronte. Si chiese come facesse Kate a sapere che il coach era un satiro. Edge indossava i pantaloni e le scarpe speciali per nascondere gli zoccoli. come facevano sempre i satiri per mescolarsi con i mortali. Il berretto da baseball gli copriva i corni. Più Kate ridacchiava e si comportava in modo amichevole, meno Percy si fidava di lei. Tuttavia Edge non sembrava affatto turbato. «Squali pacifici?» sbottò, contrariato. «E senso ha!» Frank lesse la targa accanto alla vasca. «Gli unici squali balena in cattività al mondo!» disse in tono grave. «Beh, è incredibile!» «Sì, e questi sono piccoli!» replicò Kate. «Dovresti vedere come sono gli altri miei bambini allo stato prado!» A giudicare dal luccichio malvagio negli occhi della ragazza, Percy era piuttosto sicuro di non voler mai incontrare tutti i suoi «bambini». Decise che era ora di arrivare al punto. Non voleva inoltrarsi in quel posto più del necessario. «Kate, stiamo cercando una persona!» «O meglio, un dio!» disse. «Si chiama Forco. Non è che per caso lo conosci?» La ragazza fece un verso di scherno. «Se lo conosco, è mio fratello! Ed è da lui che stiamo andando, sciocchini! I pezzi migliori della mostra sono proprio qui dietro!» Indicò con un ambio gesto, la parete opposta. La superficie nera e massiccia del muro si increspò e comparve un'altra galleria, che attraversava una luminosa vasca viola. Kate la imboccò serena. L'ultima cosa che Percy avrebbe voluto fare era seguirla, ma se Forco si trovava davvero dall'altra parte e si aveva le informazioni che servivano all'impresa. Percy trasse un respiro profondo e si avviò nella galleria. Non appena entrarono, il coach fischiò. «Questo sì che è interessante!» Sopra le loro teste fluttuavano meduse multicolore e grandi come bidoni della spazzatura, ciascuna dotata di centinaia di tentacoli simili a filo spinato in seta. Una medusa aveva un pesce spada di tre metri, paralizzato tra le spire, che lo avvolgevano poco a poco, sempre più stretti. Kate accolse raggiante il commento di Hedge. «Visto? Chi se ne importa degli squali balena? E questo è niente!» Li condusse in una sala ancora più grande. Su una parete, un'insegna rossa al Neon proclamava «Morte negli abissi», sponsorizzata da Monster Donut. Percy dovette leggerlo due volte per colpa della dislessia e due volte ancora per metabolizzare il messaggio. «Monster Donut?» «Oh, sì!» confermò Kate. «Uno dei nostri sponsor?» Percy deglutì. La sua ultima esperienza con Monster Donut non era stata piacevole. Aveva incluso teste di serpenti sputacido, molte urla e un cannone. In uno degli acquari fluttuavano molti ippocampi. Percy ne aveva incontrati parecchi in natura. Ne aveva anche cavalcato qualcuno, ma non ne aveva mai visti in cattività. Cercò di parlare con loro, ma le creature continuarono a fluttuare, picchiando di quando in quando la testa contro il vetro. Sembravano avere la mente molto confusa. «Questa cosa non va!» mormorò Percy. Poi si voltò e vide qualcosa di peggio. Sul fondo di una vasca più piccola, due nereidi, spiriti femminili dell'acqua, sedevano a gambe incrociate l'una di fronte all'altra e giocavano a memory. Sembravano molto annoiate, con i lunghi capelli verdi che ondeggiavano intorno ai loro visi. Avevano gli occhi semi chiusi. Percy era così arrabbiato che faticava a respirare. Si rivolse a Kate con un'espressione furente. «Come potete tenerle qui?» «Lo so, non sono molto interessanti!» La sorella di Forco sospirò. «Abbiamo provato a insegnare loro qualche numero, ma con scarsi risultati. Sono certa che la prossima vasca ti piacerà di più!» Percy fece per protestare, ma Kate era già andata avanti. «Per tutte le capre del cielo!» esclamò il coach. «Guardate queste bellezze!» Stava ammirando a bocca aperta due serpenti di mare, mostri lunghi quasi dieci metri, coperti di scaglie azzurre e luminescenti, muniti di una possente dentatura, capace di spezzare in due anche uno squalo. In un'altra vasca, con la testa che spuntava da una grotta di cemento, c'era un calamaro grande quanto un tir, con il becco simile a una pinza gigante. Una terza vasca conteneva invece una dozzina di creature umanoidi, con un corpo flessuoso da foca, il muso canino e le mani umane. Erano adagiate sul fondo e costruivano qualcosa con i mattoncini Lego, anche se sembravano stordite quanto le nereidi. «Ma quelli sono...» Percy non riusciva nemmeno a formulare la domanda. «Pelchini?» concluse Kate. «Sì, gli unici in cattività!» «Hanno combattuto per Crono nell'ultima guerra!» ribatte Percy. «Sono pericolosi!» Kate alzò gli occhi al cielo. «Beh, non avremmo potuto chiamare la mostra «morte negli abissi» se non avessimo esposto creature pericolose. Ma non vi preoccupate, li teniamo sedati.» «Sedati? Ma è legale?» chiese Frank. Kate finse di non aver sentito la domanda. Continuò a camminare, indicando altre vasche. Percy si voltò a guardare i telchini. Uno era chiaramente molto giovane. Stava cercando di fabbricarsi una spada di Lego, ma sembrava troppo intontito per mettere insieme i pezzi. A Percy non erano mai piaciuti i demoni di mare, ma gli fecero pena allo stesso. «E questi mostri marini invece possono raggiungere quasi cento metri di lunghezza negli abissi», stava spiegando Kate più avanti. «Hanno più di un migliaio di denti.» «E questi?» Il loro cibo preferito è la carne di semi… semi-dei», intui Frank, trasalendo. «Ma si accontentano anche di mangiare balene e piccole imbarcazioni.» Kate si voltò verso Percy e arrossì. «Chiedo scusa, sono una tale fanatica di mostri. Immagino che tu saprai già tutto, essendo il figlio di Poseidone.» Nelle orecchie di Percy stavano suonando mille campanelli d'allarme. Non gli piaceva che Kate sapesse tante cose sul suo conto. Non gli piaceva il modo in cui infilava qua e là le informazioni più inquietanti, come il fatto che sedavano le creature prigioniere o quale dei suoi «bambini» amava divorare semi-dei. «Ma tu chi sei?» domandò. «Il nome Kate sta per qualcosa.» «Kate?» Per un attimo la ragazza sembra confusa. Poi abbassò lo sguardo sulla targhetta. «Oh!» rise. «Non è Kate. È...» In quello stesso istante, con una rapida mossa, uno strano ometto sbucò dall'oscurità. Camminava di sghembo, tenendo le gambe piegate come un gambero, la schiena curva e le braccia alzate come per sollevare vassoi invisibili. Indossava un completo di orribili sfumature di verde, tutto bagnato, con una scritta d'argento scintillante lungo il fianco. «Le follie di porco!» Sui capelli radi e untuosi indossava una cuffia con microfono. Gli occhi erano di un azzurro lattiginoso, uno più alto dell'altro. Anche se sorrideva, non sembrava amichevole. Il viso pareva piuttosto atteggiato in una brutta smorfia, come sotto l'effetto di una galleria del vento. «Stimati visitatori!» esclamò, facendo tuonare le parole nel microfono. Aveva una voce da DJ, profonda e sonora, in netto contrasto con l'aspetto. «Benvenuti alle follie di forco!» indicò con un ampio gesto delle braccia un punto, come per indirizzare la loro attenzione verso chissà qual evento esplosivo. Non successe nulla. «Maledizione!» brontolò. «Telchini, tocca a voi! Io faccio un gesto con le mani e voi balzate con energia nella vasca, fate una doppia capriola sincronizzata e atterrate formando una piramide! Abbiamo provato e riprovato!» I demoni marini non gli prestarono la minima attenzione. Edge si sporse verso il dio marino e annusò il vestito bagnato e scintillante. «Bel completo!» Non sembrava una battuta, ma del resto non era un caso che il satiro indossasse sempre la tuta da ginnastica. «Grazie!» replicò l'altro, raggiante. «Io sono forco!» Frank spostò il peso del corpo da un piede all'altro. «Perché sul completo c'è scritto «porco?»» L'altro ringhiò. «Stupida sartoria! Non ne combina una giusta!» Kate picchiettò col dito sulla propria targhetta. «Il loro hanno capito Kate» e così hanno scritto. «Quanto mio fratello... beh, adesso qui lo chiamano tutti porco!» «Spudorati!» ringhiò il dio marino. «Vi sembra che io possa essere un porco?» «E poi che razza di spettacolo si chiamerebbe mai le follie di porco?» «Ma voi non siete qui per ascoltare le nostre lamentele! Ammirate la prodigiosa maestà del gigantesco calamaro killer!» E con un gesto molto scenografico indicò la vasca del calamaro. Stavolta gli effetti speciali scattarono al momento giusto. Di fronte al vetro partì un fuoco d'artificio mandando spruzzi di scintille dorate. Una musica potente fuoriuscì dalle casse. Le luci si accesero e rivelarono la prodigiosa maestà di una vasca vuota. Il calamaro si era ritirato nella grotta. «Maledizione!» strepitò di nuovo Forco. Si voltò verso la sorella. «Ceto, era compito tuo addestrare il calamaro! Gioccoleria con le palle, avevo detto, e forse un po' di carne squarciata per il finale!» «È chiedere troppo?» «Ma è timido!» si difese Ceto. «E poi ciascuno dei suoi tentacoli ha sessantadue uncini affilati che devono essere molati ogni giorno!» Si voltò verso Frank. «Sapevate che il calamaro gigante è l'unico animale conosciuto che mangia i semidei interi, con l'armatura e tutto, senza soffrire di indigestione?» Frank si allontanò da lei di qualche passo, tenendosi la pancia come per assicurarsi che fosse ancora intera. «Ceto!» Porco fece schioccare le dita sui pollici come se fossero le chiele di un granchio. «Annoierai i nostri ospiti con tutte queste informazioni! Meno istruzione, più intrattenimento! Ne abbiamo già parlato! Ma niente ma! Siamo qui per presentare la mostra «Morte negli abissi», sponsorizzata da Monster Donut!» Le ultime parole riverberarono nella sala. Si accesero numerose luci. Nuvole di fumo si elevarono dal pavimento, formando anelli che profumavano come vere ciambelle. «Disponibili nel nostro chiosco!» aggiunse Porco. «Ma voi, signori, avete speso i vostri sudati denari per un VIP-tour e lo avrete! Venite con me!» «Aspetti!» protestò Percy. Il sorriso di Forco si spense in un brutto ghigno. «Sì? Lei è un dio del mare, vero?» chiese Percy. «Figlio di Gea!» Porco sospirò. «Cinquemila anni di vita e mi conoscono ancora solo come il figlio di Gea!» «A chi importa se sono una delle divinità marine più antiche?» «Più antico di quel novellino di tuo padre, in ogni caso! Sono il dio degli abissi inesplorati, il signore dei terrori marini, il padre di migliaia di mostri!» «Eppure niente. Nessuno sa chi sono. Ho commesso un solo piccolo errore, sostenendo i titani e la loro guerra. E sono stato esiliato dall'oceano, ad Atlanta per giunta, con tutti i posti che c'erano al mondo. Pensavamo che gli dei dell'Olimpo avessero detto Atlantide», spiegò Ceto. «Immagino che si siano divertiti molto a mandarci qui, invece!» Percy so chiuse gli occhi. «Anche tu sei una dea?» «Sicuro?» Ceto sorrise contenta. «Sono la dea dei mostri marini, naturalmente! Anche delle balene, degli squali, dei calamari e di altri giganti del mare. Ma il mio cuore è sempre stato con i mostri! Sapevate che i giovani serpenti marini possono rigurgitare la carne delle loro vittime e alimentarsi per sei anni con uno stesso pasto? È vero?» Frank si stava ancora tenendo la pancia, come se stesse per vomitare. Edge fischiò. «Sei anni? Affascinante!» «Proprio così!» Ceto era raggiante. «A proposito di calamari giganti, come fanno di preciso a squarciare la carne?» chiese Edge. «Adoro la natura!» «Oh, beh, basta!» ordinò Forco. «State rovinando lo spettacolo! Ammirate le nostre nerei di gladiatrici e il loro duello mortale!» Una palla da discoteca calò dal soffitto nella vasca delle nereidi, facendo danzare mille luci colorate nell'acqua. Due spade piovvero giù e atterrarono nella sabbia. Le nereidi le ignorarono e continuarono a giocare a memory. «Maledizione!» Forco batte i piedi a terra. Ceto rivolse una smorfia a Edge. «Non fare caso a mio fratello, è un tale fanfarone! Vieni con me, mio bel satiro. Ti mostrerò i diagrammi colori che spiegano le abitudini alimentari dei mostri!» «Ottimo!» Prima che Percy potesse obiettare, Ceto condusse Edge in un labirinto di vetri, lasciando lui e Frank da soli con il bisbettico dio del mare. I due semidei si scambiarono un'occhiata nervosa. Quella aveva tutta l'aria di essere una strategia della serie Dividi e Conquista, e Percy non riusciva a immaginare un solo modo in cui l'incontro potesse finire bene. Una parte di lui avrebbe voluto attaccare subito Forco, per sfruttare almeno l'elemento sorpresa, solo che ancora non avevano scoperto nessuna informazione utile. Percy non era neppure sicuro di riuscire a ritrovare il coach, né l'uscita, se per questo. «Forco, dovette leggerglielo in viso?» «Oh, va tutto bene», lo rassicurò il dio. «Ceto è forse un po' noiosa, ma avrà cura del vostro amico. In tutta sincerità, la parte migliore del tour deve ancora venire!» Percy si sforzò di concentrarsi, ma stava cominciando ad avere mal di testa, e non avrebbe saputo dire se dipendeva dalla botta del giorno prima, dagli effetti speciali di Forco o dalle nauseanti lezioni di ceto sulle abitudini alimentari dei mostri. «Allora, riuscì a dire, ci ha mandati Dioniso. Bacco, lo corresse Frank. Giusto. Percy cercò di controllare l'irritazione. Riusciva a malapena a ricordare un nome per ogni dio. Ricordarne due. Era davvero troppo. Il dio del vino o quello che è?» Guardò Forco. Bacco ha detto che forse lei conosce i piani di sua madre e dei suoi fratelli gemelli, e Fialte e Oto. Se poi per caso sapesse dirci anche qualcosa sul marchio di Atena... «Bacco credeva che io vi avrei aiutato?» chiese Forco. «Beh, sì», rispose Percy. «Cioè, lei è Forco. Tutti parlano di lei». Forco piegò la testa, in modo che gli occhi spaiati si ritrovassero per una volta paralleli. «Davvero?» «Ma certo!» «Vero, Frank?» «Certo!» confermò il figlio di Marte. «La gente parla di lei in continuazione!» «Che cosa dicono?» domandò il dio. «Beh, che lei ha dei grandiosi effetti pirotecnici e una gran bella voce d'annunciatore!» disse Frank, imbarazzato. «E anche una palla a disco che...» «È vero!» Forco fece schiocchiare le dita con entusiasmo. «Ho anche la più grande collezione di mostri marini in cattività! Del mondo!» «E sa anche un sacco di cose!» aggiunse Percy. «Come, per esempio, che cosa hanno in mente di fare i gemelli?» «I gemelli!» Porco fece schiocchiare la voce. Fontane di scintille pirotecniche si alzarono di fronte alla vasca dei serpenti marini. «Sì, so tutto di Effialte e Oto. Quegli arrivisti! Non sono mai andati d'accordo con gli altri giganti. Troppo gracili. E poi, quei serpenti al posto dei piedi! Serpenti al posto dei piedi!» Percy ripensò alle lunghe pantofole con la punta arricciolata che i giganti indossavano nel sogno. «Sì, sì!» confermò Forco con impazienza. «Sapevano di non poter contare sulla forza fisica, perciò si sono dati al teatro. Illusioni ottiche, trucchi da palcoscenico, cose così. Vedete, Gea ha plasmato i propri figli, avendo in mente dei nemici specifici per ciascuno. Ogni gigante è nato per uccidere un certo dio. E Fialte e Oto… beh, insieme erano una sorta di antidioniso. Percy cercò di afferrare bene il concetto. «Perciò vogliono rimpiazzare tutto il vino del mondo con succo di mirtillo o roba del genere?» Il dio del mare fece un verso di scherno. «Figuriamoci! E Fialte e Oto volevano sempre fare le cose meglio degli altri, volevano essere più originali, più spettacolari. Oh, certo che volevano uccidere Dioniso, ma prima volevano umiliarlo, facendo apparire insipidi i suoi festini!» Frank lanciò un'occhiata alle fontane di scintille. «E come? Con i fuochi d'artificio e le palle disco?» La bocca di forco si distese in quel suo sorriso da galleria del vento. «Esatto! Io ho insegnato ai gemelli tutto quello che sanno, o almeno ci ho provato. Non ascoltavano mai. Il loro primo numero? Cercarono di raggiungere l'Olimpo ammucchiando una serie di montagne l'una sopra l'altra. Era solo un'illusione ottica, naturalmente. Gli dissi che era una cosa ridicola. «Dovreste cominciare con cose più piccole, suggerì. Segarvi a metà, per esempio, tirare fuori i gorgoni dal cappello, cose così. E dovresti indossare dei completi di paillette abbinati. Ottimo consiglio!» concordò Percy. «E ora i gemelli sono... Ah! Stanno preparando il loro spettacolo per il giorno del giudizio a Roma!» disse forco in tono sprezzante. «Una delle idee sciocche di nostra madre! Tengono non so quale prigioniero in una grossa giara di bronzo!» Si voltò verso Frank. «Tu sei un figlio di Ares, giusto?» «Sì, hai quell'odore lì!» «Una volta i gemelli imprigionarono tuo padre nello stesso modo!» «Sono un figlio di Marte!» lo corresse Frank. «Aspetti! Questi giganti intrappolarono mio padre in una giara di bronzo!» «Sì, un altro dei loro stupidi numeri!» confermò il dio del mare. «Come puoi mettere in mostra il tuo prigioniero se lo chiudi in una giara di bronzo? L'intrattenimento è pari a zero!» «Mica come i miei adorati esemplari!» indicò con un ampio gesto gli ippocampi, che continuavano a picchiare appaticamente la testa contro il vetro. Percy faceva fatica a raccogliere i pensieri. Si sentiva come se la letargia di quelle creature confuse stesse cominciando a contagiarlo. «Ha detto che questo spettacolo del giorno del giudizio è un'idea di Gea?» «Beh, i piani di nostra madre hanno sempre molti... strati!» Forco ridacchiò. «Del resto, la terra è fatta a strati!» «Ah, certo!» commentò Percy. «E il suo piano, perciò, no, ha messo una taglia generale su un certo gruppo di semidei», spiegò Forco. «Non le importa chi li ucciderà!» «Beh, no, ritiro quello che ho detto!» «Ha specificato che due vanno risparmiati, un maschio e una femmina!» «Solo il tartaro sa perché!» «A ogni modo, i gemelli hanno organizzato il loro spettacolino, sperando di attirare questi semidei a Roma!» «Suppongo che il prigioniero nella giara sia un loro amico!» «A meno che non pensino, naturalmente, che i semidei in questione siano così sciocchi da entrare nel loro territorio per cercare il marchio di Atena!» Forco diede di gomito a Frank nelle costole. «Ah, buona fortuna, eh?» Il figlio di Marte rise nervosamente. «Ah, sarebbe davvero stupido, perché...» Forco so chiuse gli occhi. Percy infila una mano in tasca e chiuse le dita intorno a vortice. Perfino quel dio doveva essere abbastanza sveglio da capire che erano loro i semidei con una taglia sulla testa. Ma Forco sorrise e diede un'altra gomitata a Frank. «Ah, questa era bella, figlio di Marte! Suppongo che tu abbia ragione. Perché parlarne? Perfino se i semidei trovassero quella mappa a Charleston, non arriverebbero mai a Roma vivi!» «Certo, la mappa a Charleston!» ripete Frank, scandendo le parole e sgranando gli occhi in direzione di Percy per assicurarsi che avesse colto. «Non avrebbe potuto tradirsi di più!» Nemmeno se avessi stato un grosso cartello con su scritto «Indizio!» «Ma basta con questa roba!» esclama Forco. «Avete pagato per il trattamento VIP! Non volete che vi faccia concludere il tour? I tre denari d'ingresso non possono essere rimborsati!» Percy non era molto eccitato all'idea di altri fuochi d'artificio, vapori al profumo di ciambelle o di primenti creature marine in cattività. Ma scambiò una rapida occhiata con Frank e decise che era meglio accontentare quel vecchio bisbetico, almeno finché non avessero ritrovato Edge e raggiunto sani e salvi l'uscita. E poi forse potevano strappargli altre informazioni. «Dopo potremo farle qualche altra domanda?» chiese. «Ma certo! Vi dirò tutto quello che vorrete sapere!» Forco batte due volte le mani. Sulla parete sottostante l'insegna rossa comparve una nuova galleria e conduceva in un'altra vasca. «Da questa parte! Seguitemi!» Forco si infilò nella galleria con la sua strana andatura sghemba. Frank si grattò la testa. «Dici che dobbiamo fare come lui?» Si mise anche lui sghembo. «Piantala!» replicò Percy. «Su, andiamo!»